Halloween Party Davide Giallombardo Icabod Crane, un profilo nell'oscurità. Un personaggio intriso di mistero e inquietudine, reso con tratti inconfondibili. Il naso prominente e allungato, simbolo di un'innata curiosità e vulnerabilità. I colori, in una palette di toni scuri, evocano un'atmosfera nostalgica e malinconica, trasportando lo spettatore in un'epoca passata. Ma anche in un contesto di oscurità e inquietudine. Il fondo, dominato da sfumature di marrone, terra e fango, suggerisce una connessione profonda con il mondo naturale. Ma allo stesso tempo richiama l'idea di una realtà densa di misteri e segreti. Questi toni terrosi, non solo rappresentano l'ambiente in cui Icabod si muove, ma incarnano anche la pesantezza del suo destino. Mentre si confronta con l'innoto e l'inevitabile paura che pervade la sua esistenza. La scelta di un'illustrazione in chiave seppia non è casuale. Essa trasmette un senso di tempo sospeso, di storie antiche che tornano a vivere. Perfettamente in linea con le celebrazioni di Halloween. In questo periodo dell'anno, i fantasmi del passato si risvegliano. E Icabod Crane, con il suo profilo inquietante, diventa simbolo di un'epoca in cui le leggende si intrecciano con la realtà. Icabod, spesso associato a racconti di spiriti e apparizioni, ci invita a riflettere sul confine tra la vita e la morte, tra il conosciuto e l'innoto. Il suo sguardo, apparentemente perso nel vuoto, sembra interrogarsi sul destino e sulla propria identità. Temi universali che risuonano in chiunque si trovi a confrontarsi con l'oscurità. Questa opera ci pone di fronte a un personaggio che, pur appartenendo a un'epoca e a un contesto specifico, incarna paure e domande senza tempo. In definitiva, il profilo di Icabod non è solo un ritratto di un uomo, ma un richiamo all'inquietudine che pervade le notti di Halloween. La sua presenza ci esorta a guardare oltre l'apparenza, a scrutare nel buio e ad affrontare le storie e i misteri che continuano a vivere nella nostra cultura, rendendo questa opera un perfetto contributo alla riflessione e al fascino di questa festività.